abbiamo già detto tante cose all'interno del primo dibattito in particolare abbiamo parlato di frammentazione del lavoro della precarizzazione del lavoro di tutto quello che va a dipingere una ristrutturazione del capitale oggi e al contempo però anche di nuove forme, nuove emersioni in qualche modo di fenomeni sociali che all'interno di questa fase molto spesso sono di difficile interpretazione e abbiamo parlato, Felice Mometti citava appunto e raccontava le caratteristiche degli scioperi negli Stati Uniti e ha parlato anche di possibilità di processi di soggettivazione all'interno di queste lotte l'obiettivo un po' di questa seconda parte di dibattito si pone proprio in un'altra ottica diciamo in una maniera un po' anche laboratoriale quindi si propone come dire di porsi dal punto di vista di chi in qualche modo oggi si pone l'ambizione come soggetto di voler intervenire all'interno di questi fenomeni sociali che emergono anche appunto spontaneamente al di fuori delle forme classiche abbiamo parlato appunto dei sindacati ma non solo quindi più in generale al di fuori delle forme classiche dell'organizzazione politica e quindi a partire proprio da questa necessità andremo un po' ad approfondire quelli che possono essere degli strumenti da un punto di vista di metodo anche di appunto possibilità di andare oltre quella che è un approccio diciamo anche più teorico di analisi di questi fenomeni ma di ricerca, di corricerca all'interno delle lotte e di saperi che noi a partire dalle lotte possiamo in qualche modo collezionare ma non per il gusto di poter analizzare in maniera precisa quello che succede intorno a noi ma con l'obiettivo di potervi intervenire farsi contaminare al di là di quelle che in qualche modo possono essere delle alleanze possibili ma provando ad andare un po' più in profondità pensiamo che questa sia una necessità del presente perché appunto come dicevo prima ci sono una serie di fenomeni che ci lasciano molto spesso anche incapaci di capire che cosa sta succedendo intorno a noi e quello che vorremmo un po' mettere al centro di questo dibattito è una categoria che in qualche modo è da approcciare su un livello di metodo che è quella della composizione di classe e che anche prima veniva citata come in qualche modo un termine controverso quindi magari anche su questo potremo tornare durante la discussione una categoria appunto che ci perviene diciamo dalla tradizione operaista e che oggi vorremmo in qualche modo rimetterla al centro del dibattito proprio a partire da una necessità pratica e quindi rispetto a quello che dicevo prima da un lato per capire la classe all'interno dei processi produttivi ma anche nella sua dimensione soggettiva quindi tutto quello che comporta come dire i bisogni, i desideri, l'immaginario che sta all'interno di questa dimensione e che appunto ci porta a quello che sono un po' i limiti dell'oggi anche nella possibilità appunto di intervenire con l'idea di trasformazione del presente in dei processi trasformativi se da un lato appunto c'è una difficoltà di comprendere dei fenomeni penso per esempio a tutti i movimenti che dai forconi per parlare di quello che è successo qua a Torino, in Italia, in avanti hanno portato come dire all'interno del dibattito e all'interno delle nostre esistenze una differenza rispetto al prima qua abbiamo anche ospiti che dopo andrò a presentare che provengono da altri paesi europei comunque dalla Francia, dall'Inghilterra che appunto porteranno il loro contributo in questo senso perché appunto un po' la questione che ci vorremmo porre è se all'interno di questi fenomeni appunto parlavo dei forconi ma in Francia possiamo parlare dei gile gialli per arrivare anche a tutte quelle che sono delle forme di attivazione spontanea appunto dalla pandemia in avanti come delle possibili nuove forme di sciopero di quello che leggiamo come il ceto medio impoverito all'oggi e soprattutto dall'altro lato appunto ci scontriamo anche con quello che è un obiettivo che per quanto ci riguarda è qualcosa a cui ambire ossia una ricomposizione possibile all'interno della società oggi quindi le questioni sono intanto la necessità di ricostruire un punto di vista politico di parte e anche la necessità di un lavoro politico che permetta quella che possiamo chiamare una controsoggettivazione al di fuori diciamo degli itinerari capitalistici perché e anche prima se ne parlava anche facendo riferimento alle classi popolari rispetto alla questione del reddito di cittadinanza però appunto questo è soltanto un esempio tra i tanti la questione appunto che come dire la composizione di classe alla quale ci possiamo in qualche modo riferire non possiamo dare per scontato che sia di per sé progressista anzi oggi appunto ci dobbiamo misurare con una serie di questioni che impongono la necessità appunto di non prendere scorciatoie in questo senso e quindi appunto a parte un po' l'inquadramento di quello che vuole essere questo momento adesso andrò a presentare i nostri ospiti abbiamo Salvatore Comino che è ricercatore indipendente e che appunto studia proprio a partire da questi temi le questioni del lavoro però appunto intendendo il lavoro sia nella sua sfera produttiva ma anche riproduttiva e poi abbiamo FX di Strike un collettivo di inchiesta militante francese che appunto si occupa proprio di utilizzare l'inchiesta come metodo e strumento per entrare in contatto e conoscere delle parti sociali dei fenomeni sociali e Notes from Belove appunto dall'Inghilterra che propone un lavoro anche qua di inchiesta militante operaia a partire da quelle che sono le lotte all'interno appunto della dimensione del lavoro niente quindi questo un po' per introdurre e magari passo la parola a Vincenzo per entrare un pochino più nel merito delle questioni ma cercherò di essere molto breve in realtà cercherò di spiegare il perché abbiamo scelto di fare questo secondo momento in forma laboratoriale mettiamola così cioè come se fosse un inizio di apertura di delle ipotesi per delle tracce di lavoro su questi temi abbiamo scelto di farlo perché ci sembra che oggi abbiamo un certo spesamento rispetto a le lotte in generale ma sicuramente le lotte nel mondo del lavoro o comunque sulla questione del lavoro produttivo e riproduttivo più in generale in Italia vedono di fatto una dinamica che continua a consumarsi di una sostanziale degradamento di qualsiasi forma di sindacalismo sicuramente del sindacalismo istituzionale ma anche dall'altro lato di una fatica del sindacalismo conflittuale a trovare delle dimensioni di come dire massificazione perlomeno di generalizzazione eppure ci sembra che in realtà a livello sociale delle tensioni esistano che non si manifestano nelle forme classiche dello sciopero degli scioperi per come le conosciamo nelle forme classiche delle lotte quindi paradossalmente quello che ci sembrava importante era rimettere al centro alcune categorie che negli ultimi anni nella discussione pubblica si sono un po' perse anche perché in qualche modo nello sciogliersi del paradigma diciamo classista mettiamola così di una visione classista con esso questa questa dimensione quasi è portata dietro anche la fine di alcune categorie come quella appunto di composizione che rimangono un pochettino a margine del dibattito o comunque utilizzate in una maniera possiamo dire anche spesso inappropriata sociologica mi viene da dire ecco per noi la questione della composizione ritorna come questione di una classe frammentata e come discorso necessario in termini processuali per pensare a un altro tema che è quello adesso senza cadere nel gioco di parole della ricomposizione ci rendiamo conto che oggi questo discorso della ricomposizione rischia di essere frainteso perché può essere visto come un discorso che guarda solo la classe mentre siamo ben consapevoli che insomma ci sono una serie di tagli di lenti con cui oggi dobbiamo guardare la società che non si possono fermare alla questione della classe però dall'altro lato ci sembra ancora forse è necessario inventarne di nuove di categorizzazioni su questo ma ci sembra ancora una categoria più aderente ai processi che ci immaginiamo rispetto a quelle che insomma sono state tirate fuori negli ultimi anni come ad esempio quella delle alleanze perché pensiamo alla ricomposizione innanzitutto come un processo di soggettivazione di controsoggettivazione che deriva dall'incontro tra ecco e e quindi in questo senso oggi ci piacerebbe riflettere su questo su la validità o meno di questo concetto e su come possiamo ritematizzarlo in assenza di altri di altre categorie più adatte per l'oggi ecco e perché non crediamo che sia soltanto una questione lessicale ma che sia una questione sostanziale laddove la dimensione insomma delle alleanze a volte se malintesa rischia di far far pensare far riflettere su una dimensione del del mettere insieme dei soggetti in termini tattici o di opportunità o anche strategici ma che rimangono come dire non trasformabili ecco quindi vado insomma mi rendo conto che la stiamo mettendo su un piano un po' provocatorio però è anche quello che vorremmo vado a chiudere dicendo alcune cose per introdurre anche insomma l'intervento di Salvatore con lui andremo ad affrontare un po' da un lato una ricostruzione storica di questa categoria della composizione però anche vorremmo entrare su una rilettura critica in qualche modo e anche avvicinandosi all'oggi di cosa ha significato in qualche modo in parte in un ciclo che possiamo dire chiuso come quello del neopopulismo provare a riprendere in mano queste chiavi di lettura però dall'altro lato anche guardare oggi di fronte allo scenario della guerra e di cosa sta attivando quali potrebbero essere su questi temi alcune riflessioni ecco detto questo insomma a seguire invece con i compagni di Nots From Below e di Strike vorremmo andare più sul piano del come hanno adattato uno strumento come quello dell'inchiesta alla contemporaneità delle lotte sociali che a differenza dell'Italia insomma si sono date perlomeno in termini di massa in maniera significativa quindi nulla lascio la palla a Salvatore e niente questo grazie questo non è che mi hai dato un compito facile però nel senso io premetto cerco di attenermi alle questioni su cui ogni tanto mi capita di pensare trascurando e di parlare delle altre perché chiaramente sono tutti termini temi tra loro collegati insomma aggiungo due cose a modi premessa mi era stato appunto chiesto un intervento introduttivo sul concetto di composizione di classe ma anche perché i compagni soprattutto del collettivo notes from below lo utilizzano ampiamente come concetto chiave direi del loro percorso di inchiesta di ricerca che riprende molti dei temi maturati nell'operaismo italiano io non ho fatto bene i compiti per una serie di ragioni comunque non mi tiro indietro proviamo a fare una serie proviamo a fare qualche ragionamento ecco partendo dalle cose che dici però volevo collegarmi esattamente a una che stavi dicendo adesso perché anche io penso che prima di parlare di composizione di classe ci arriviamo per gradi però la grande questione è capire se questa paroletta classe classe sociale oltre che avere ancora una utilità ma dirò poi in che senso politica sia ancora un qualcosa sia un qualcosa che ci serve di cui liberarci e viene prima io però vorrei dire una cosa ho 56 57 anni credo che ci siano due parole che fino a dieci anni fa erano stati due concetti che erano stati completamente aboliti nella discussione pubblica tutto sommato anche nel dibattito scientifico una era capitalismo non esisteva non si parla il capitalismo esisteva esisteva l'economia di mercato quello che volete ma non capitalismo e l'altra era esattamente classe questo soprattutto nel dibattito sociologico peraltro non è una parolaccia sociologia non è che prima avete sentito una tavola con due sociologi che parlavano insomma ci sono quindi lì ce n'è un altro insomma però adesso perché anche anche classe era diventato come un concetto di cui liberarsi fa specie che un testo di un penso un libro che ha fatto discutere qualche anno fa e che provava ad affrontare il momento populista negli Stati Uniti ma parlava evidentemente del trumpismo ammesso che l'espressione abbia un senso diciamola per velocità un libro di Michael Lynn della nuova rotta di classe mi pare si chiama partiva con questa affermazione non si spiegheranno mai tutti coloro che sono provati a spiegare il voto a Trump ma è fenomeno populista non ci arriveranno mai perché gli manca hanno abbandonato qualsiasi riferimento alla nozione di classe ok quindi devo dire tra i pochi meriti diciamo scientifici ma no politici diciamo così della fase del decennio che ci lasciamo alle spalle che almeno possiamo usare direi tranquillamente libertà due concetti fondativi almeno del nostro modo di pensare di approcciare la realtà di analizzarla di descriverla insomma questo veniamo la seconda premessa è questa è già stato detto è stato evocato anche prima il concetto di composizione di classe è un concetto distintivo di quel filone del marxismo degli anni 60 e 70 che è stato chiamato operaismo è il più distintivo di tutti intorno a questo ad altri costrutti teorici di quel filone si sono misurati e confrontati intellettuali militanti con strumenti ben più solidi dei miei insomma quindi personalmente quello che mi sento di dire deriva dalla frequentazione e la lettura ma anche qui ci sono persone che l'hanno frequentato e letto più di me insomma col sociologo militante romano Alcuati a cui peraltro si doveva il conio stesso il conio originario di questo costrutto teorico nonché credo anche gli spunti più rilevanti per definirne l'operatività però questo non è che fa di me uno specialista adesso io per i non addetti ai lavori chi volesse approcciarsi alla materia un testo che mi sento sempre di consigliare da molti anni perché credo che sia ricostruisca molto bene sia le sfide teoriche sia anche le aporie sia anche gli aspetti per cui questa categoria inizia a girare vuoto un testo di un non operaista un politologo si chiama Damiano Palano lo trovate in rete il testo si chiama Il bandolo della batassa più che dire tante cose io rinvierei molto la lettura di quel testo però e non voglio aggirare però il compito dato quindi qualcosa dobbiamo dirlo insomma e questo soprattutto per i non addetti ai lavori io per cogliere la portata cosa significa insomma del concetto di composizione di classe è necessario un grande flashback dobbiamo tornare negli anni in cui il concetto venne elaborato alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 bisogna collocarsi in quel passaggio storico ma questo anticipa una domanda che mi piacerebbe porre anche ai compagni di notes from below in particolare modo se poi è così utile ancora e bisogna essere radicali quando ci si pone le questioni io sono molto affezionato alla categoria di composizione di classe ma mi pongo sempre il problema se sia un concetto oggi utile sì ma poi glielo poni tu perché io dopo ne parliamo dicevo fino anni 50 inizio anni 60 andiamo molto per grandi gradi è chiaro che esisteva esisteva un'organizzazione politica di massa riconosciuta delle classi popolari in Italia che era il partito comunista italiano la cui strategia ufficiale però insomma perseguiva essenzialmente il patto dei produttori togliattiano ossia un'alleanza strategica fra settori popolari e frazioni progressiste del capitalismo questa strategia subordinava le istanze stesse di classe ad una modernizzazione del capitalismo questa era l'essenza della strategia dei due tempi del PCD togliati per altri versi l'affermarsi di una teoria critica di derivazione francofortese portava molti intellettuali anche radicali a considerare essenzialmente gli operai la classe operaia essenzialmente diciamola così integrata nella nascente società opulente dei consumi erano gli anni del boom economico noi in Italia ci siamo arrivati 30 anni dopo va detto però essenzialmente e quindi questa classe operaia che era l'icona delle organizzazioni del movimento operaio in realtà o era rappresentata in termini astorici più iconizzata che conosciuta nei suoi termini effettivi reali oppure era considerata persa per qualsiasi progetto di trasformazione radicale e lì si collocava la grande sfida come dire il ribaltamento teorico e di prospettiva posto in atto diciamola così dagli operaisti radunati intorno alle principali esperienze di rivista di quegli anni certamente i quaderni rossi che inizia le pubblicazioni che ha le sue pubblicazioni tra il 60 poi il 64 e poi la rivista classe operaia fondata da alcuni intellettuali militanti dei stessi quaderni rossi che rompono con la figura di fondatore Panzieri va bene non dilunghiamoci su questo cosa mi interessa dire però cosa fanno questi operaisti all'interno di questo qual è il senso della loro innovazione che portano dentro in quegli anni semplicemente gli operaisti a differenza del marxismo ufficiale che considerava la classe operaia oramai per lo più come una variabile economica e lo sviluppo capitalistico governato da leggi economiche oggettive e lo sviluppo tecnologico neutro posero al centro banalmente l'elemento soggettivo attraverso un recupero del marx critico dell'economia politica e quindi dei rapporti sociali di produzione ponendo questo elemento soggettivo che li portò a leggere effettivamente lo stesso sviluppo capitalistico l'organizzazione del lavoro come esito perennemente aperto e in divenire dei rapporti di forza che si davano tra le classi questo secondo me è il primo punto fondamentale il secondo è cosa intendevano perché composizione non bastava classe io qua ricorro sempre una testimonianza Sergio Bologna che ebbe una parte molto importante anche negli anni a venire nell'ambito di una rivista a primo maggio a cui si devono molti degli approfondimenti dei teorici successivi e degli aggiornamenti anche della categoria di composizione di classe cosa diceva Sergio Bologna composizione voleva dire comprendere la classe come si dà cito testualmente sia nel processo produttivo e in rapporto con l'organizzazione tecnica ma anche per cosa pensa come vive di quali valori desideri aspettative e rapportatrice questo poi detto in una frase c'è tutta l'essenza della questione perché perché era chiaro che quella forze nuove quella classe operaia che iniziava ad affacciarsi in quegli stabilimenti della produzione di massa del Taylor Fordismo che in Italia arriva solo negli anni 50 del 900 fosse molto diversa per valori comportamenti immaginario probabilmente desideri ma anche come dire per esperienza politica organizzata da quella che l'aveva preceduta consegnata poi la storia come operaio di mestiere poi dopo si parlò di operaio di mestiere di operaio massa abbiamo sentito prima nella testimonianza dagli Stati Uniti la distinzione tra le modalità di condurre le lotte in un settore molto sindacalizzato sia pure nelle forme tutte americane della sindacalizzazione ossia delle tre grandi imprese automotive di Detroit e gli scioperi di Starbucks che venivano letti come differenze in modalità che sono differenze iscritte nelle varietà nell'articolazione della forza lavoro nelle diverse cicli di produzione del capitalismo ecco questa era la questione fondamentale perché composizione dunque perché questa classe operaia era tutto fuorché omogenea già allora figuriamoci oggi qua si parla di frammentazione io su questo vorrei dire però qualcosa allora il lavoro è sempre stato frammentato c'è sempre stata come dire il grado di frammentazione diciamola così per velocità della classe è diciamo inversamente proporzionale al grado di ricomposizione del padrone collettivo è la forza del padrone collettivo che determina la frammentazione della classe io di questo sono sempre abbastanza convinto perché se la guardavamo dal punto di vista tecnico come la guardavano gli operaisti negli anni 50-60 basta leggersi gli articoli banalmente anche di Alquati sui quaderni rossi e ripercorrevano una profonda articolazione una profonda differenza di professionalità competenze rapporto rispetto alla direzione aziendale etica del lavoro anche tra diverse spezzone all'interno delle stesse aziende della produzione di massa in realtà non è mai esistita una massa compatta quest'operaio massa in termini compatti politici fu una creazione politica allora penso non lo so se direi perché poi non voglio parlare poi sono loro che fanno l'inchiesta io non è che abbia poi così tante cose da dire sull'argomento certo ci sarebbe da dilungarsi ma evito di farlo però sulle aporie anche sulle forzature anche un po' deterministiche a cui il concetto di composizione di classe venne un po' posto dietro diciamola così accontentiamoci di definire la composizione di classe come un aspetto come una come un concetto che da un lato restituisce l'articolazione dal punto di vista della struttura tecnico professionale della forza lavoro e come questa però entra in gioco in legame con la struttura soggettiva dei bisogni dopo vennero stilizzati due concetti attraverso composizione tecnica e composizione politica di classe che secondo me rischia sempre di dare adito anche a una serie di cortocircuiti anche analitici e ci arriviamo però per gradi però perché vengo poi alle domande che ponevate prima ma se no ci si perde anche un po' sugli aspetti di ricostruzione storica dico solo una cosa che chiaramente questa categoria consentì non solo di leggere l'esplosione conflittuare delle lotte che poi vennero consegnate alla storia come le lotte dell'operaio massa nella seconda metà degli anni sessanta fino ai primi anni settanta ma consentiva di dare una matrice a una lettura materialistica anche al ciclo di insubordinazione proletaria degli anni settanta che però non avveniva più all'interno delle fabbriche avveniva sul territorio in cui il testimone di soggetto trainante delle lotte passava di volta in volta ai giovani proletari alle donne oppure a quegli strani studenti come venne definito il movimento del settantasette uno strano movimento di strani studenti che con comportamenti non più riconducibili a quelli della generazione precedente dico questo per dire che anche coloro che coniarono il concetto di composizione di classe si posero però il problema di superarlo di superarne la dimensione fabbrichista si posero il problema di porre il nesso di ciò che stava dentro le mura dell'impresa e al di fuori delle mura dell'impresa quella composizione sociale con cui i compagni di notes from below arricchiscono il concetto di composizione di classe secondo me era già presente nelle elaborazioni degli anni settanta semplicemente non veniva definita così quando si parlò si iniziò a parlare all'epoca di operaio sociale io però non voglio aggirare le questioni che mi premono di più perché io sono molto in difficoltà in realtà pur avendoci ragionato con molti qua presenti per tanti anni su questi temi devo dire di non essere così convinto poi della effettiva efficacia utilità ancora di questo concetto o almeno ne sono convinto sì ma in un determinato senso perché poi bisogna insomma la questione non è che si può aggirare il concetto di composizione di classe di qualche utilità se sottratto a quella specifica a quello specifico stadio di sviluppo del capitalismo ci serve ancora nella rivoluzione digitale ci serve di fronte alle piattaforme all'intelligenza artificiale o ci serve di fronte al divenire centrale per la stessa accumulazione capitalistica della sfera riproduttiva dei servizi collettivi dell'organizzazione della vita quotidiana io non la pongo come domanda retorica per cui do per scontato che la risposta sia affermativa sono problemi che mi pongo in realtà abbastanza seriamente per quello che conta la mia opinione io mi sono risposto che in realtà l'efficacia teorica pratica del concetto di composizione di classe fosse effettivamente radicata in quella stagione nel taylorfordismo nell'epoca dell'operaio massa ciò non significa però che diciamo che tracce del metodo della composizione di classe siano pienamente attuali però lo vedo più come necessità di adottare un metodo una postura più che un'applicazione sistematica di un paradigma io penso un po' queste cose qui per me mettiamola così composizione di classe oggi vuol dire di nuovo uso di una sociologia militante così non c'è solo sociologia insomma di una sociologia militante contro l'ideologia di nuovo contro la rappresentazione disincarnata della soggettività che significa poi interrogare le frazioni di classe di nuovo proletariato di nuovo in questa duplicità per come si danno dentro il lavoro per questo fatico anche Sandro poi accogliere fino in fondo la provocazione con cui chiudevi il tuo intervento la contraddizione fra lottare contro il lavoro e però per salari migliori che però ci imprigionano ancora di più dentro quella quella dimensione perché penso che l'esperienza delle persone non sia così scindibile però le rivendicazioni sono scindibili io credo che noi avremo come dire una migliore possibilità maggiore ma è quello che penso non è possibilità di avere una vita dotata di senso più degna di essere vissuta fuori dal lavoro quanto più saremo anche in grado di avere una dimensione conflittuale che ci rende più forti più contrattuali dentro il lavoro e non è vero la contraddizione sta nelle cose perché viviamo in una realtà intrinsecamente contraddittoria c'è la base stessa delle stesse categorie che utilizziamo è la contraddizione il problema è come andiamo a scioglierla ecco due lasciamo perdere per un attimo la composizione di classe parliamo della classe a questo punto però io credo che almeno su questo possiamo essere d'accordo qui non credo che siamo particolarmente interessati alla classe intesa come descrittore analitico scientifico dello spazio sociale della stratificazione sociale o un descrittore della disuguaglianza certo anche quello non è che possiamo la domanda però non si può di nuovo aggirare viene prima della composizione di classe però secondo me lo dicevo un po' prima è soltanto un descrittore una descrizione della stratificazione sociale o può essere tuttora un principio di riconoscimento e di azione collettiva questo non è secondo me un tema banale non è anche di nuovo una domanda retorica e la pongo anche perché penso sia importante terzo faccio una serie di domande e poi vado a chiudere che lo scuso è un lungo pensavo non ne vado a chiudere io credo che però anche questi dibattiti vadano situati nel tempo se dieci anni fa era il cosiddetto momento populista riaprimmo il file della composizione di classe lo dico qua molto rozzamente e perché in qualche modo uso il plurale perché con molti qua ne abbiamo parlato a suo tempo perché ipotizzavamo che dietro il populismo ci fosse una matrice di classe lo dico in modo molto rozzo e molto grezzo è spuria regressiva quanto si vuole ma comunque operante perché l'idea che quella decetomerizzazione quella venire meno delle condizioni di inclusione e di integrazione quell'esperienza della crisi l'impoverimento economico che si accompagnava anche un impoverimento culturale tutto sommato stessero alimentando dei processi di possibile ricomposizione proletaria adesso questo non sto dicendo che accadde quello sto dicendo che questa era la scommessa politica e la ragione per cui riprendiamo a ragionare di ricomposizione di classe perché avevamo dietro questa visione qua io adesso al di là del giudizio ex post che possiamo dare su quella stagione però penso davvero che siamo entrati in un altro ciclo e faccio fatica oggi a ragionare su quelle stesse mobilitazioni sono stati citati i forconi e per noi chi di noi non ha guardato i gilets jaunes come momento fondamentale anche di verifica di possibile conferma di queste ipotesi eravamo raggianti insomma nel vedere quindi io non mi pienta di niente non si tratta di dire abbiamo pensato male si tratta di leggere anche però le trasformazioni ed è chiarissimo che siamo entrati in una fase molto diversa io credo che in realtà se oggi esiste una grande questione da approcciare con lo sguardo operaista della composizione di classe siano le cose di cui si è parlato nella sessione precedente insomma ossia le trasformazioni chiamano così l'attenzione del rapporto tra le persone e il lavoro di cui ci hanno parlato Francesca e Sandro prima perché penso questo affrontiamolo da un altro punto di vista prendiamolo dal punto di vista padronale a me per lavoro capita spesso di fare tante interviste a figure che nella diciamo divisione sociale del lavoro si collocano dall'altra parte sono i padroni sono i manager sono coloro che si pongono il problema di trarre il massimo trarre valore dal sfruttamento del lavoro insomma io vedo da due o tre anni vero panico però un panico letterale che è probabilmente dura e anche a termine penso avesse ragione Francesca quando diceva prima che si sta mettendo in campo e come dire dispositivi molto forti per ridurre quello che secondo me è un effettivamente accresciuto potere forza contrattuale del lavoro perché quando sento dire non troviamo le persone perché le persone i padroni non sono molto originali per cui è colpa del reddito di cittadinanza se parliamo dei settori più magari insomma di working poor di lavoro bassa qualificazione eccetera eccetera però dicono qua vengono da noi e dicono io voglio lavorare solo fino alle tre perché poi devo farmi gli affari miei qua o mi date due giorni di smart working oppure io non ci penso minimamente oppure vengono sei mesi e se ne vanno via da un'altra parte capisco che questo a me sembra una situazione dal punto di vista oggettivo dei micro comportamenti delle dimensioni molecolare del rapporto tra le persone il lavoro e i datori e i padroni mi sembra una situazione per certi versi che a mia memoria non ricordo ricordo dalla memoria semmai dei miei genitori avevo sempre mio padre che raccontava che negli anni sessanta licenziato da una fonderia settimo torinese facendo la strada di ritorno verso casa semplicemente presentandosi ai cancelli di altre tre fabbriche trovò altri tre posti di lavoro e capite che questo dava una forza fenomenale insomma ecco quindi questo secondo me oggi adottare la postura della composizione di classe significa scavare dentro questi comportamenti però senza girare le domande peraltro che mi pare siano state poste anche prima perché le domande sono queste dal mio punto di vista lasciamo perdere le dimissioni ma l'insieme di questa micro conflittualità personale anche individuale la sottrazione e negoziazione individuale anticipo poi un argomento io non penso che questo potere sia equamente distribuito in tutti i settori del lavoro anticipo un'obiezione che faccio sempre anch'io ad altri insomma quindi l'anticipo perché non venga rivolta so benissimo che c'è gente ci sono tantissimi settori di lavoro imprigionati nel lavoro senza fine a cui è richiesto tantissimo in termini di ingaggio e che hanno poche possibilità e chance di ricontrattare la loro prestazione però molti altri ce l'hanno e questo comunque è un'è ecco il problema è continuo a non vedere dentro questo insieme tante situazioni personali a meno di non vedere ed è la parte per me più bella del libro di Francesca adesso mi spiace che non ci sia più collegata quindi uno lo può dire tranquillamente proprio perché non c'è quella in cui mette in relazione in tensione le dimissioni la sottrazione volontaria del lavoro con gli scioperi con le vertenze vedendo come una vada ad alimentare l'altra vedendo come un insieme poi lei stessa però poneva in dubbio la continuità di questa situazione perché sono finestre che si aprono secondo me sono finestre che in Italia hanno la possibilità di essere più durature per la glaciazione demografica e fa specie fa ridere vedere oggi imprenditori probabilmente elettori del centro-destra molti dei quali elettori del centro-destra reclamare a gran voce come dire la riapertura dei flussi in rivendicare centinaia di migliaia e milioni di nuovi ingressi perché se no si trovano a dover contrattare con persone che sanno di avere del potere e lo usano io penso che i ragazzi che hanno 20-25 anni l'etica del lavoro non ce l'hanno sono stati forgiati dalla dimensione della precarietà se poi per etica del lavoro intendiamo che io credo che il lavoro mantenga anche dentro su questo forse abbiamo anche una differenza è lecito anche averne io credo che il lavoro sia una dimensione e l'occupazione sia una dimensione che concorre tuttora a forgiare è troppo importante nella vita delle persone perché non abbia comunque una parte anche nel forgiarne l'identità ma il problema è come trasformiamo questo potere questa capacità questo potere tra virgolette oggettivo in capacità soggettiva di azione collettiva capisco anticipo anche qui un'obiezione tanti comportamenti individuali che entrano in risonanza e convergono sono una forma di pratica collettiva sono comportamenti di aggregato venivano definiti in qualche modo qualcuno le definiva così non è la stessa cosa allora la domanda è questa e la pongo soprattutto a chi pratica l'inchiesta c'è c'è una capacità abbiamo la possibilità di trasformare questo potere di mercato mettiamolo chiamiamolo così è un potere di mercato in questo momento quello della incapacità di determinare recuperare potere e controllo controllo una parola chiave sulle condizioni stesse di erogazione della propria prestazione per me è un aspetto che continua a essere non aggirabile io credo che comunque diciamo vi siano degli antagonismi oggettivi che scavano sotto il terreno dei rapporti di produzione che bene non dimenticassene so su questo di essere vecchio però faceva anche un po' parte credo dell'organizzazione della giornata grazie mille Salvo come sempre insomma alla fine non hai niente da dire però riesci sempre a focalizzare molto bene i punti di domanda di cui abbiamo bisogno adesso insomma magari inizierei proprio chiedendovi un po' di partire dal presentarvi da parlarci anche un po' delle vostre inchieste ma magari di entrare anche subito sulle questioni che poneva che poneva Salvatore rispetto appunto la validità oggi e come la intendete della categoria di composizione di classe partiamo da questo non so chi vuole iniziare vuoi iniziare tu FX si si va bene allora se vogliono iniziare loro ok I'm going to speak in English and then we're going to translate thank you for the intervention I guess the first thing to maybe address is the role of class composition inquiry in the notes from below project why we have orientated ourselves around these concepts and what we really have tried to do with these concepts so far so I think it's important to maybe contextualise the initiation of this project notes from below I think notes from below developed from two quite significant significant political experiences that marked the trajectory of some of the members of the group I think the first experience was facing the limits of Trotskyist organising in Britain and the sorry a confrontation with an aspect of vanguard organising peculiar to the British context where a kind of substitutionalism characterised these groups by which I mean that the Trotskyist organisations that we were involved in had a presupposed conception of the working class and substituted its revolutionary line for that class that it was serving the interests of the second political experience that I think was an important departure point for notes from below was the 2010 student movement again again I think the experience of facing the limits of that movement in its time and particularly the distance that that movement had from distance that movement had from the working class whatever that may have been at that point and recognizing the limits of leverage that was there in the composition the political composition of the student movement at that moment and the gulf which existed between the student movement and the official arm of the workers movement at that time questo collettivo ha avuto inizio a partire da due esperienze che hanno vissuto i membri del collettivo la prima è il riconoscimento dei limiti delle organizzazioni trotskiste di cui facevano parte e appunto vedere il processo di sostituzionismo che è avvenuto all'interno di queste organizzazioni e come sono cambiate e il secondo invece è stato vivere e analizzare il movimento studentesco del 2010 e anche in questo caso vederne i limiti e anche il rapporto invece alla classe lavoratrice quindi il rapporto tra il movimento studentesco e la classe lavoratrice e quali limiti ci fossero in questo contesto ora think faced with these two political experiences our group were keen to reconstruct a history of Marxist analysis and approach to political activity that addressed some of the shortcomings of these political experiences and in that reconstruction we started from taking an interest in the late interest that is there in Marx for empirical research and to experiences of the workplace of the 19th century so Marx writes his worker inquiry 100 questions that he intended to circulate to industrial workers and it portrays a level of attentiveness to the distinctions and the experience of the working class which challenges fairly orthodox conceptions of pre-established proletarian subject determined by the wage relation and you can see this also in other parts of Marx like 18th Brumaire there's an attentiveness to the compositional dynamics to the self-organization of the working class high points of activity and so along with that we were interested in CLR James the Johnson Forrest tendency particularly James Bog and the way that he was able to analyze the development of the auto plant industry in Detroit and looking at the role of the racialization of the labor force in the 70s and the profound role that the policing of minoritized parts of the workforce were playing in this very central node within global capitalism at that point Nel loro lavoro di analisi sono partiti dal loro essere portati a ricostruire la storia del marxismo e delle forme di lotta insite in esso guardando anche l'interesse recente che c'era per le letture di marx e l'inchiesta che marx stesso ha svolto sulla classe lavoratrice in particolare per l'attenzione che anche marx ha dimostrato di avere nei confronti della dinamica di composizione di classe e un altro studioso che hanno analizzato è James Pock e il modo in cui ha analizzato il settore della manifattura delle auto a Detroit negli anni settanta e in questo lineage we saw continuità con operismo e la role class composition played in in their thought e obviously the role of inquiry e drawing out the historically specific conjunctural features of the mass worker at that time particularly with the migration of southern Italian workers and what that brought to the constitution of this proletarian subject and the tactics and organizational forms that emerged with this so this is the kind of intellectual heritage that we tried to kind of conjure into existence in order to justify an approach to understanding class and class composition which was otherwise entirely absent from the tradition of Marxism and communist politics in the British context it was otherwise an incredibly top-down tradition the British the Great British Communist Party the official arm of the labor movement the trade union movement and so on was incredibly bureaucratic and top-down and did not have a tradition of analyzing the empirical peculiarities of the makeup of the class so so this is something that we were very keen to draw into our approach to research and political activity so just to maybe say our approach to class composition as it features and the publications that we've produced our understanding of class composition is made up by these three components technical composition social composition and political composition by technical composition we understand this to mean the peculiar organization of yeah sorry 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 hanno visto delle continuità con l'operaismo italiano e con il lavoro d'inchiesta trovando anche legami con la migrazione degli operai dal sud Italia verso il nord e con il loro essere proletari e quindi quanto detto finora è ciò che compone il background culturale del collettivo knows from below che invece per loro era assente dal marxismo britannico in particolare il partito comunista britannico era un partito comunista molto burocratico che non analizza le peculiarità della costruzione di classe e della composizione di classe e il loro approccio si basa sull'analisi di tre composizioni la composizione tecnica la composizione sociale e la composizione politica che Degrees of access to health, to care, to housing, to transport, the gendered division of labour, the racial division of labour, and so on. And then political composition, we understand to be the forms of self-organisation, which the working class takes in response to or through the technical and social composition, which mediates their experience of everyday life. And so we take this kind of expanded conceptualisation of class composition and bring it to bear upon the results of workers' inquiry. This is how we try to analyse and diagnose the information that we draw from the core research that we do. And that means formulating questions with a view to being attentive both to the technical composition, which structures our experiences of work, but also social composition, the ways in which our relationship to consumption and reproduction equally structures this experience. Allora, la composizione tecnica consiste sostanzialmente nei modi di organizzare la produzione sotto il capitale, quindi le tecniche, le modalità del lavoro sotto il capitale, il tempo speso a lavorare e come le persone vengono socializzate al lavoro, la composizione sociale invece riguarda l'organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e come vengono socializzati e socializzate al consumo e alla riproduzione, cosa che comprende anche quindi l'accesso alla salute, cosa che comprende anche quindi l'accesso alla salute, la divisione del lavoro per genere e anche per esempio l'accesso alla casa e via dicendo. Infine la composizione politica è ciò che riguarda l'organizzazione di classe dei lavoratori e delle lavoratrici in risposta al capitale e questa è la definizione di composizione di classe attraverso cui Notes from Below svolge la propria analisi, si pone delle domande, soprattutto appunto per quanto riguarda il tema della socializzazione al consumo e della socializzazione alla riproduzione. Ok, great. Apologisci, I'm also going to be speaking English. So, moving on from the framework that Roberto's laid out in which we use to understand the work that we do, and moving through towards this notion of co-research, which I think defines the way that we see that our deployment of class composition as a political tool within the organizing that we do as militants, co-research being a process of inquiry that is both an opening to engaging in new workplaces with workers and as a continuous part of that organizing process. So, inquiry is both the entry point and also the ongoing process of learning and sharing and developing struggle as a collective both through the militant and through the workers that we engage with. I think a key site through which we have carried out this work over the past five to ten years is with the emergence of new base unions. So, unions that have formed outside of the official structures of the trade union movement in Britain. Most notably of these is the independent workers of Great Britain Union, which represents workers in the gig economy, in the charity sector. They represent foster carers and security guards and cleaners, particularly at universities. And this is what I'll discuss just now in our relationship to that as workers with inside the university, particularly during the wave of struggles that broke out in 2018 around the cuts to pensions of university lecturers. As a group of organizers who met on university campuses, we felt quite alienated from the discourse within the trade union and its misunderstanding of the development of relations that were happening within the university. And it drove us to inquire further into the dynamics of the modern university, which pushed us to speak to our cleaners and our security guards, who had gone through a process of outsourcing, which is where, rather than working directly for the university, workers would be put, would be outsourced to a private company that would bid and tender for contracts. And these workers would be transferred from the responsibility of the university to the responsibility of this private company. The instrument that utiliza the collective for the dale of investigation is the instrument of research, within which the composition of classes becomes a instrument of battle. Per questa ragione entrano all'interno di luoghi di lavoro nuovi e sostanzialmente si mettono in relazione con lavoratori e lavoratrici del posto e sono arrivati ad analizzare la situazione dei sindacati che sono nati negli ultimi anni al di fuori di quelli tradizionali, per fare un paragone italiano, i sindacati non confederali che in inglese sarebbero trade unions e in particolare ci sono tre categorie di sindacati che hanno riscontrato in Inghilterra, i sindacati della gig economy, i sindacati si potrebbe tradurre del lavoro di cura volontariato e i sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno dell'università, in particolare venendo loro stessi dal mondo universitario si sentivano particolarmente alienati dal discorso che veniva fatto dai sindacati confederali inglesi, soprattutto per quanto riguarda quelle persone che svolgono un'attività di guardiola, di sorveglianza dei campus universitari e per gli addetti e le addette alle pulizie queste persone infatti come tra l'altro avviene anche nelle università italiane, negli ultimi anni sono state trasferite e anziché essere dipendenti dell'università sono stati spostati sotto delle società appaltatrici che sappiamo benissimo che hanno livelli salariali molto diversi anche di protezione e garanzie sul lavoro questi lavoratori, questi lavoratori, cleaners e security guardi, erano considerate unorganizzabile due a loro condizioni via mainstream trade unions, erano più disperse, più alienati da l'università, often particolarmente con cleaners, erano non parlare inglese perché erano latin americani e quindi erano pensato di unorganizzabile, unorganizzabile force e in esempio in london università quando si oggessi, erano quando gli oggessi aprilano, erano presso i primi di unione internazionare, che ha fatto ad un ruote di una nuova base unione, le IWGB e anche l'United Voices of the World, dove questi lavoratori sviluppano altre capacità per sviluppare They developed their own organisations to represent them when the large trade unions wouldn't. And through that struggle a whole world of new tactics were introduced into the struggle over work in the university, so militant direct action protests, the shutting down of buildings, mass protests marching through university campuses very militant picket lines hard picket lines the forefronting of workers within the struggle which is something sadly that's quite rare or was quite rare in the British trade union movement at that point and a concept that that negotiation was not a possibility and so leverage and attrition was the only way to to win there was a few minutes I'm not reading it was just all kinds of stuff I lavoratori e le lavoratrici del mondo universitario di cui si parlava quindi appunto coloro che svolgono un servizio di sorveglianza e di pulizie venivano considerati delle persone inorganizzabili in quanto molto disperse nel mondo del lavoro e soprattutto e soprattutto anche per il fatto di non parlare inglese in quanto si trattava soprattutto di persone latinoamericane e tuttavia c'è stato un momento in cui a Londra hanno provato a organizzarsi ma sono state zittite dai sindacati confederali ed è stata questa spaccatura a far sì che si arrivasse alla decisione di creare dei propri sindacati di base che rispondessero effettivamente alle esigenze di questo tipo di lavoratori e lavoratrici e che non venissero appunto silenziate le loro istanze perché ritenute inorganizzabili come si diceva e è stato molto interessante anche perché tra queste persone non c'erano tantissimi militanti eppure si era comunque molto convinti che non ci fosse alcun tipo di compromesso raggiungibile e so for us as a collective who are deeply engaged in this organising project understanding these new conditions within the workplace the new conditions that outsourcing brings the harsh realities also it's the new technical arrangements of work different shift patterns this intensification of work under the outsourcing model combined with a reading of the social composition of this workforce the shared cultural experience of both migration and of struggle within Latin America of those different cultural patterns that formed those trade unions allowed us to understand and read better the political composition that these workers were able to take when they were in struggle there was not just a challenge to the bosses that they were fighting but was in the period of between 2010 and 2015 a challenge to the very structure and process of labour disputes within Britain that had often been wrapped up in this notion of negotiation and of collaboration with management instead we found a workforce that had no interest both on the part of the workers and on the part of bosses to have a negotiation there was only conflict and there was only confrontation and so for us this was a very revelatory project to be a part of whether we can use whether class composition is relevant today was answered by well it is if the struggle if it's able to produce and further our ability to engage in struggle and until the point it's not then we find it useful questa nuova lotta sindacale e hanno potuto notare in particolare queste nuove condizioni di lavoro, ciò che queste nuove condizioni di lavoro hanno generato e le loro particolarità. Innanzitutto la particolarità di essere estromessi dai contratti universitari e quindi lavorare sotto società appaltatrici e poi la questione della migrazione, come si diceva prima tutti i lavoratori e lavoratrici di cui si parlava erano lavoratori e lavoratrici latinoamericani che quindi hanno in parte portato i metodi che venivano per loro dal Sud America e inoltre vivevano comunque una doppia situazione, quindi quella di essere lavoratori e lavoratrici sfruttati e sfruttate è quella di essere persone migranti. Non hanno voluto durante questi anni, quindi dal 2010 al 2015 non si è trattato soltanto di una sfida ai loro padroni ma anche in generale alla società britannica tutta ed è stato interessante analizzare come l'assenza di un compromesso, l'accettazione di un compromesso non fosse soltanto qualcosa che veniva dai lavoratori e delle lavoratrici ma anche qualcosa che arrivava dai padroni stessi. Quindi queste persone, lavoratori e lavoratrici da una parte e padroni dall'altra erano persone che si confrontavano ma che non avevano la volontà di trovare alcun tipo di compromesso e appunto la fatica di queste persone è stata quella che poi ha dato l'avvio a questo tipo di lotta. Ok grazie, proverò di fare questo intervento in italiano quindi scusatemi per errore che sono probabile inizierò per un po' presentare il progetto di Strike che è molto più recente da quello dei compagni di Nots From Below perché abbiamo iniziato veramente da pubblicare inchieste da settembre dell'anno scorso e quindi penso di fare una spiegazione molto più congiunturale dei nostri motivi per costituire questo progetto. Allora, il primo punto di contesto è la singolarità del contesto politico francese che si caratterizza da un ciclo di movimenti abbastanza potente almeno al livello dell'europea e quindi questi movimenti sono momenti di alta intensità politica ma dall'altra parte tra questi movimenti abbiamo periodi di bassa intensità al livello politico questi movimenti si caratterizzano come movimenti difensivi contro riformi non liberali riformi contro il welfare francese proprio quindi del genere che abbiamo visto l'anno scorso in Francia era un movimento contro una riforma delle pensioni e ad esempio era anche un movimento contro una riforma delle pensioni che è accaduto in 2019 quindi l'inizio del progetto di Strike è di creare un spazio di organizzazione piuttosto di creare spazi di organizzazione a mezzo termine tra questi movimenti per credere un legame temporale tra questi movimenti quindi c'è un altro aspetto di questo contesto nazionale particolare che sono nuovi soggetti politici nuovi ma hanno diciamo più nuovi che i movimenti di cui parlevo che sono le lotte intorno allo sviluppo di progetti territoriali quindi il primo esempio durante questo secolo era ovviamente l'ASAD di Notre-Dame-de-Land o anche altri progetti territoriali contro le quali sono delle lotte quindi il nostro progetto è di creare questi spazi di organizzazione a mezzo termine perché questo è un vero bisogno del nostro contesto politico perché c'è tra questi momenti di alta intensità una scomparsa degli spazi organizzazionali e quindi perché scegliere l'inchiesta per fare questo noi proviamo di fare delle inchieste che non sono sia giornalismo sia sociologia quindi è la ragione per la quale abbiamo chiamato STRAIC un collettivo di inchiesta militante allora la differenza secondo noi è che le nostre inchieste non si concentrano solo sull'oggettività dei processi sociali ma anche l'oggettività dei processi sociali quindi per le condizioni di vita ma anche sul lato soggettivo quindi vuole dire usare l'inchiesta come un modo di organizzarci e anche di credere legame tra diverse esperienze di lotte quindi all'interno di questo progetto si pone il problema di come individuire i luoghi specifici di inchiesta che secondo me è un problema che riguarda un po' tutta questa tradizione della quale abbiamo parlato che ad esempio mi pare interessante il fatto che le esperienze di inchieste più importanti del Novecento sono tutte inchieste sul lavoro del settore automobile ad esempio quindi come individuire questi luoghi d'inchiesta si tratta di individuire punti potenziali di radicalizzazione delle contraddizioni del modo di produzione capitalista e prendo due esempi di inchiesta che stiamo facendo adesso per fare un po' capire il nostro approccio di questa metodo allora la prima è l'inchiesta che stiamo facendo sulla droga a Parigi al momento c'è una pulizia radicale fatta dalla parte della polizia e anche del sistema medicale dei consumatori di droga che vivono nelle strade a Parigi e questa ha una ragione semplice che sono i giochi olimpiaci e quindi questa inchiesta è una prova di ricostituire un discorso che non è un discorso sia repressivo sia liberale sulla droga perché secondo noi questo complesso di problema intorno alla droga in Francia è molto importante per capire il potere sociale della polizia perché per spiegarlo posso dare una cifra che lo illustra bene che al momento in Francia 56% delle attività della polizia sono per controllare possessori di droga quindi la prima inchiesta la seconda inchiesta non facciamo solo queste inchieste ma ho dovuto scegliere la seconda inchiesta che stiamo facendo è un'inchiesta su un progetto di miniera di litio che si trova nel centro Francia quindi è una prova di capire le forme di conflittualità che possono emergere nella cosiddetta transizione energetica questo secondo noi è molto importante perché questo progetto vuole creare una catena industriale integrata nel territorio nazionale ma anche in Europa più generalmente di produzione di macchine elettriche e quindi l'estrattivismo del litio è un po' il punto di partenza della costituzione di questa catena industriale quindi vogliamo con l'intervento in questo terreno potremmo ponere il problema della transizione energetica più generalmente ma anche con i soggetti che lottano qua il modo con cui si riferiscono a questo complesso di problemi allora magari adesso posso parlare un po' di composizione di classe per fare un po' di eresia rispetto alle categorie canoniche dell'operaismo quindi al momento come l'avete magari visto molte inchieste che stiamo facendo non sono proprio su posti di lavoro perché dopo il falimento del movimento contro la riforma delle pensioni sono a livello del movimento in Francia sono divenuti egemonici le lotte ecologiste e quindi secondo noi pongono una sfida per modificare un po' la nozione di composizione di classe perché questo dibattito non è stato aperto da noi ma da pensatori come Bono Latou ad esempio con il libro sulle geoclasse quindi una concezione della classe che non si rivolge solo su un piano diciamo per essere breve sociologico ma anche a un livello geografico ma non come la scienza geografica al livello della terra quindi secondo noi è importante di ponere questo complesso di problemi perché la dimensione territoriale della classe è molto importante come lo possiamo vedere anche sociologicamente ad esempio nella sociologia elettorale ad esempio ma al contrario di questa concezione noi proviamo di pensare una classe ecologica ma non in un modo borghese che alla fine vuole dire sostenere i diversi partiti verdi dell'Europa ma di ponere il problema della composizione di classe in questo contesto e cambia molto perché l'esperienza di classe e del sfruttamento è alla fine un'esperienza diretta e non è il caso della crisi climatica non è possibile fare questa esperienza senza tanti tanti oggetti tecnologici che possono fare i modelli climatici ad esempio quindi la e quindi la 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 nozione di di conscienza di di classe cambia totalmente e si si tratta di di pensare una una composizione di una una composizione di classe eh nel in questo contesto e quindi vuol dire che ehm la la composizione politica eh è divenuta diversa dalla dalla composizione tecnica della 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 classe quindi eh i i la 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 composizione la composizione tecnica in questo contesto vuole dire tutto il processo di 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 lavoro ad esempio di della natura dei viventi ma questa composizione tecnica ovviamente non non vuol dire direttamente un un salto verso una composizione politica quindi le nostre inchieste e finirò così perché ho 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 inizio a essere un po' un po' male a parlare in italiano e quindi si tratta nel non tutte le nostre inchieste ma ad esempio su su quello che stiamo facendo sul litio di pensare una ricomposizione ecologica del proletariato grazie vabbè noi data l'ora inizieremo ad aprire le domande dal pubblico se ce ne sono quindi ok allora proviamo insomma mettere un paio di questioni noi non so se vuoi partire tu ok intanto vorremmo chiedere ai compagni di Notes from below se diciamo rispetto al ciclo di scioperi che c'è stato in Gran Bretagna quale quali possibilità e criticità dell'approccio dell'inchiesta e della corricerca hanno visto e anche cose rimasto dopo diciamo la fine di questo ciclo in termini di da un lato saperi accumulati ma anche dall'altro organizzazione mettiamola così o comunque formale o informale che sia ecco ecco ok Ok, so thanks for the question. Yeah, 2022 was a very significant year in the British Labour movement in terms of its huge uptick in days lost, work days lost to strike, not seeing levels of strike action taken like that in Britain since the 80s. The first interesting thing to think through with the strike wave of 2022 is how much it was called from above and how much trade union leaders and officials, trade union bosses, played the role that they played in making those strikes happen. So rather than there being some mass demand from below on trade unions to run these ballots and to call these disputes, it was very much from the top down, which is an interesting thing to think through with inquiry. It kind of starts us from the level of a political struggle that we then have to return to unpick. The fact that these strikes were called from above led to it having a lot of limitations. the strike wave of 2022, which was across rail, health care, teachers, in schools, universities, mail delivery. So very connected to the public sector or industries and sectors that would have formerly been in the public sector but had been privatized under the austerity regime of the government of 2010. We are guys together today over time. We are on for the last reading of ouresus has been in the public sector. Actually there were a lot of objectives, it is what we do. Vedevano così dagli anni Ottanta. Quello che è stato interessante di questo periodo, di questi scioperi del 2022 è il fatto che la dinamica dello sciopero non è stata innescata dal basso verso l'alto, quindi non da lavoratori e lavoratrici, ma al contrario invece è stata più richiesta e causata dai padroni dei sindacati confederali e questo ha posto dei grandi limiti perché sono stati coinvolti dei settori di base come il settore della salute, il settore dell'educazione, le consegne che sono quei settori considerati più indispensabili. And because these strikes were called from above, they were also called off far too easily through very unsatisfactory deals. There was a distinct lack of coordination and an escalation of action across these campaigns. There was four or five different major strikes happening all at the same time with very very minimal to non-existent co-ordination between them, a very conservative approach to the tactics that were used within these disputes, often with a lot of radical rhetoric and a return to brokered backroom deals, and there was a lot of things when we're thinking through the strike, when we're trying to understand the conditions and the compositions that both form and come out of that period. What was clear was clear was that there was a very distinct lack of rank and file control within Labour disputes at that period of time, but also that during that period many workers for the first time will have taken political action that they would have never considered taking before, that there were large networks that there were large networks that were built off the back of that action, and that there was large, there will be large, there will be widespread dissatisfaction with the way in which they ended. Which of course can go one of two ways, is that it either leads to new forms of organisation, or it leads to no organisation, and a moving away from organisation, which is the lull in which we've seen at this moment in time. But there were elements of that period, that whilst a lot of the politics was coming from the top down, inadvertently showed itself to generalise into a wider class experience. For example, the RMT union's strikes on the trains revealed the government's political position towards strikes, so the RMT caused mass disruption through train strikes over the space of a year and a half, and the British government paid the train companies for every debt, all profits lost during the strike were insured by the government. So the companies wouldn't lose any money, and the public was basically paying for this private company to lose money due to strikes. In universities, we had a really strong marking and assessment boycott that was nationwide, which for a small period of time led to a total reshifting of the conversation around the funding of higher education and also the purpose of higher education at that time. And in the spheres of healthcare particularly, so the nurses' union, the Royal College of Nursing, went on strike for the first time in its history. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. 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 people. Thank you. 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 Thank you.